Differenziati in aumento per il secondo mese consecutivo a Ponte Cagnano-Faiano, i dati sulla raccolta a settembre, resi noti dal Consorzio di Bacino, hanno attestato un più 6,63% rispetto allo stesso mese del 2017. Gli aumenti maggiori si sono registrati sul fronte del multimateriale, più 45%, del vetro, più 53% e della carta, più 33%. Siamo solo all'inizio, afferma il sindaco Lanzara, ma alla lunga questo sforzo ci porterà ad un risparmio in bolletta, una città più vivibile e strade pulite.